Ciao a tutti, anche se quest'oggi non ci vedremo propriamente in faccia, vi voglio infatti portare in un tour all'interno di Stadia per raccontarvi un po' com'è cresciuto il servizio di cloud gaming di Google nel corso dell'ultimo anno. Dopo una partenza, beh, insomma, una falsa partenza, devo dire che secondo me ormai Stadia dà tempo sul binario giusto per diventare il servizio di cloud gaming di riferimento per la maggior parte degli utenti. Allora, quella che vedete è la nuova home di Stadia che si è rinnovata proprio da pochi giorni. Sulla sinistra l'ultimo gioco che ho eseguito e sulla destra una serie di collegamenti rapidi, il cui nome direi che è abbastanza autoesplicativo. Le novità sono anche più sotto, dove finalmente abbiamo una disposizione su tre colonne e in più, spostando il mouse sopra i vari titoli, avrete questa piccola anteprima con un tag in basso, che comunque non è cliccabile, che vi indica il tipo di gioco in questione. Purtroppo non è ancora possibile eliminare contenuti da questa schermata, quantomeno a nasconderli. Vedete che io qui ho la demo di Phoenix Rising e ho anche poi acquistato in seguito il gioco completo, ma non posso togliere la demo da qui e quindi in pratica mi ritrovo con un doppione. Oppure per esempio Kraita, che se non sbaglio era gratuito qualche tempo fa, l'ho preso per curiosità, ma praticamente non l'ho mai usato e come lui, insomma, ha altri titoli che col tempo mi sono accorto praticamente di non fare mai, che mi piacerebbe nascondere, mi piacerebbe a volte organizzare queste colonne in modo diverso, magari averne quattro, insomma, manca un po' di personalizzazione. Ma la cosa peggiore in realtà è proprio la gestione delle acquisizioni. Io quindi ho cancellate tantissimo l'altro giorno perché ero arrivato al limite, ma cancellarle è veramente una cosa noiosissima, le dovete aprire una a una e in alto a destra utilizzare il pulsantino per eliminarla. Non è possibile selezionarne più di una, per esempio appunto per eliminarle in blocco, la condivisione anche solo di un'immagine vi genera un link e non l'immagine stessa. Insomma, la parte delle acquisizioni è onestamente un pochino tutta da rivedere. Ma veniamo allo store che è probabilmente la cosa principale di Stadia, perché comunque è lì che si trovano i vari giochi. Store che nel corso del tempo è davvero cresciuto. All'inizio effettivamente una delle critiche che veniva fatta a Stadia era quella di avere pochi contenuti, mentre adesso i contenuti ci sono e come. Anche titoli AAA molto recenti, le nuove uscite le state vedendo in questo momento, oltre a Cyberpunk sono arrivati da poco tutti i capitoli precedenti Watch Dogs, c'è anche già Watch Dogs Legion, c'è Immortals Fenyx Rising, c'è Assassin's Creed Valhalla che è addirittura arrivato ancora prima e quindi non è nemmeno presente in questo elenco. Insomma, certi software house prediligono di più Stadia rispetto ad altre, Ubisoft per esempio è una di quelle che le supporta di più, ma i titoli ci sono. Non certo al punto da poter fare un paragone con Steam o con altre piattaforme, assolutamente, però titoli AAA ce ne sono. Sto pensando anche al gioco degli Avengers, è uscito qualche mese fa, sto pensando a Baldur's Gate 3 che è ancora in Early Access. Insomma, Stadia sta crescendo dal punto di vista dei contenuti nel modo giusto. La mancanza più inspiegabile dello store è una funzione di ricerca. All'inizio la potevate giustificare col fatto che i titoli erano pochi, ma ormai appunto come abbiamo visto di contenuti ce ne sono, ma ancora Google, Google sottolinea, non ha implementato una funzione di ricerca. L'unico modo può essere fare un Ctrl F andando qui nella sezione Tutti i giochi, che come vedete sono effettivamente tanti, e ricercarli in questa maniera, ma insomma non è la stessa cosa di avere una barra di ricerca. Poi c'è anche da dire che molti titoli hanno un contenuto duplicato, perché ci sono le varie Gold Edition, Ultimate Edition, Standard Edition, come volete. Quindi si potrebbe anche fare qualcosa per raggruppare meglio i giochi, anche se in questo modo probabilmente lo store sembrerebbe più piccolo. Fatto sta che al di là di tutto, secondo me, una funzione di ricerca, prima o poi deve arrivare qualcuno su Reddit, se non sbaglio l'aveva anche avvistata, ma con il recente rinnovamento grafico ancora Google non l'ha implementata. Non chiedetemi perché. Un altro punto importante sono i prezzi. Prezzi che secondo me non sono malvagi, soprattutto perché comunque, vedete anche qui, questo è un piccolo esempio sui giochi appena usciti, che si trovano spesso delle buone offerte. Qualche giorno fa ho acquistato Borderlands 3 a 10,99€, era scontato rispetto a 99€. Qui ci sono i primi Watch Dogs che sono stati introdotti da poco in offerte, sia per utenti pro che anche per utenti non pro. È vero che magari i titoli appena lanciati hanno un prezzo elevato, a volte anche più che su altre piattaforme, anche se tenete conto che su Stadia dovete in pratica comprare soltanto il gioco, non c'è bisogno di altro, vi basta un hardware veramente da due soldi, però le offerte comunque col tempo ci sono, basta a volte semplicemente sapere aspettare un pochino di trovare quella giusta. Secondo me ci sta anche che i titoli possono essere un pochino più cari, perché comunque appunto per giocare su Stadia vi basta un Chromebook da 200-300€, mentre invece per giocare a un Cyberpunk 2077 su un PC avete bisogno di un hardware molto potente o di una console di ultima generazione. E appunto, se saprete pazientare, secondo me l'offerta giusta prima o poi arriverà. Nel corso di questi mesi per me, bene o male, è sempre stato così. A questo proposito vi dirò di più. Secondo me la versione Pro di Stadia, che vi offre sì il 4K, HDR, il Surround, è anche troppo per la maggior parte degli utenti. Cioè Stadia si rivolge a chi non ha un PC abbastanza potente da far girare un Cyberpunk 2077, o non è riuscito ad acquistare una PlayStation 5 al lancio, e magari si ritrova con un vecchio PC, con scheda grafica integrata, e con Stadia può giocare bene a titoli molto moderni. L'unica cosa che ci vuole è una buona connessione. Quello è assolutamente imprescindibile. Secondo me una 100 megabit per giocare in full HD e addirittura una fibra FTTH a 1 gigabit per il 4K. Ma non perché ci voglia una banda così elevata, ma perché, come state vedendo anche da questo filmato, che è in full HD, il quantitativo di banda richiesto da Stadia varia moltissimo. Cioè si arriva oltre i 20 megabit al secondo nei momenti un pochino più intensi a 10 o anche 5 megabit in quelli più tranquilli e cambia continuamente anche all'interno di uno scontro come questo che magari uno pensa sia sempre ad alto bitrate. Non è detto. Quindi il concetto è che avrete bisogno di una connessione estremamente flessibile, con tanta banda libera in ogni momento, perché non esiste proprio il concetto di precaricamento. Non è come quando guardate un filmato su YouTube o un video su Netflix. Qui non potete precaricare nulla. Avete bisogno di avere quella banda sempre e comunque disponibile. E con Stadia appunto ho notato che bene o male ci vogliono, ci vuole una fibra. È inutile girarci tanto attorno, uno può anche discutere sul fatto, se sia troppo, se sia poco. È semplicemente un dato di fatto di com'è il servizio adesso. È inutile lamentarsi poi magari di problemi, scatti, rallentamenti o quello che è, se il problema è a monte, cioè se è la connessione. Detto questo, bisogna sottolineare che anche se aveste un'ottima connessione, io a casa ho la FTTH, non è detto che non sperimenterete mai qualche piccolo problema. Esattamente come a volte i giochi non sono ottimizzati bene anche su PC, lo stesso discorso può valere anche per Stadia. Cioè, qualche micro scatto, qualche piccolo rallentamento, non è per forza causato dalla banda. A volte è proprio il gioco stesso che scattucchia un pochino in origine. Non è nemmeno una questione di potenza, penso l'abbiate sperimentato un po' tutti. A volte anche con un hardware strapotente, certi giochi un pochino, in qualche momento, qualche glitch, qualche bug, qualche rallentamento, lo esibiscono comunque. E questo vale anche per Stadia, che alla fin fine è un sistema Linux virtualizzato, sul quale girano appunto i vari titoli che possono non essere sempre impeccabili. E oltre a questo va anche detto che comunque qui si tratta di mandare talmente tanti pacchetti al secondo che anche con la migliore connessione qualche pacchetto può andare un pochino perso e quindi si può generare qualche micro scatto, qualche incertezza, qualche rallentamento in più, magari rispetto ad un gioco eseguito in locale. Questo un pochino va messo in conto. Ma vi dico anche che nel mio anno di gioco con Stadia ho finito interamente giochi del calibro di Doom Eternal senza avere problemi, senza avere degli scatti o dei rallentamenti appunto tali da compromettere l'esperienza di gioco. All'inizio, quando il servizio era stato lanciato da poco, poteva effettivamente capitare più spesso che ci fossero dei problemi e lì erano più imputabili proprio a Stadia stesso. Ma ormai, dopo aver giocato a tanti titoli, ho capito che spesso l'unica cosa che succede è semplicemente che ci possa essere qualche piccolo problema col gioco in sé esattamente come li avreste sulle altre piattaforme. Quindi non dovete assolutamente preoccuparvi da questo punto di vista. Se avete una buona connessione, i problemi che restano sono comunque di calibro minore. Un altro discorso riguarda poi la qualità visiva. Secondo me il Full HD va bene, come vi ho detto prima, per la maggior parte degli utenti, ma non tutti i giochi offrono la stessa esperienza visiva. Che vuol dire? Vuol dire che in pratica qui, quando giocate su Stadia, è come se steste guardando un filmato su YouTube. Questo video qua è un Full HD, vedete, in WP9, che è il codec di YouTube in pratica. con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso. Nel senso che non tutti i filmati sono altrettanto godibili. Dipende un po' anche dal tipo di contenuto. Se, come in questo caso, avete degli effetti di luce che si rifrange su questa nebbiolina che c'è sullo sfondo, con tantissime sfumature, e li vedete bene, quelli artefatti da compressione, quella scalettatura che c'è, e che magari appunto ricorderete anche da certi filmati su YouTube. I giochi che puntino di più al realismo in questo modo possono esibere questi difetti, e magari a volte vi basta spostarvi un po' lontano da quella luce gestita magari un pochino male, da quella nebbiolina della quale tanti titoli oggi abusano, per avere una visuale decisamente migliore. Vi rispostate un po' più in là, e ritornano tutti quegli artefatti che non avreste con un gioco eseguito in locale sul vostro PC. È una cosa da tenere un po' in considerazione in quei giochi tipo Assassin's Creed Valhalla, ma anche il precedente Odyssey, che presentano appunto magari una gestione non proprio ottimale delle luci, un abuso un po' delle nebbioline, e tante, tante gradazioni di colore. Altri giochi invece sono decisamente migliori, ma anche con una grafica migliore di quella, cioè non è una questione se la grafica sia bella o meno, è una questione del tipo di grafica. Phoenix Rising, per esempio, grafica anche se più semplice, gira strabene perché, dal punto di vista visivo anche, è colori pastello, no? Sono colori nettici, sono meno sfumature. Anche in Odyssey c'erano un po' gli stessi problemi che ho riscontrato in Valhalla, è proprio un po' il tipo di gioco. Watch Dogs Legion, per esempio, è realistico, ma con contrasti molto forti, per certi versi un pochino alla Cyberpunk, anche poi ci torno meglio dopo sopra su Cyberpunk 2077, e quindi, nonostante qui vedete sia una bella grafica, i colori appunto sono più netti, più contrastati, ci sono meno sfumature, e in linea di massima la grafica di Watch Dogs Legion viene resa molto meglio su Stadia rispetto a quella appunto di una Stasis Creed Valhalla, anche in quelle scene un pochino più scure, perché comunque sono un tipo di immagine diversa rispetto a quella proposta da Ubisoft, sempre in un altro titolo. Tutto ciò al netto anche della risoluzione in 4K, come il filmato che state vedendo adesso, le cose effettivamente da questo punto di vista un pochino migliorano, ma no, secondo me così tanto da giustificare il prezzo, non soltanto per questa cosa qui, poi la versione Pro offre diverse cose in più che possono valere l'abbonamento o meno, ma non è soltanto un discorso di qualità grafica a renderla migliore. Ci sono poi altri giochi, per certi versi un po' intermedi, come Baldur's Gate 3, che potrebbe effettivamente avere un po' di problemi in stile a Stasis Creed, ma viene aiutato da queste visuali dall'alto, esometrica, lontana dal soggetto, che quindi un pochino attenua quelli che potevano essere i problemi evidenziati in a Stasis Creed. E comunque Baldur's Gate 3, già di per sé, ha una grafica un pochino meno prona ai problemi che ho descritto in precedenza. Purtroppo dopo un po' lo capirete, insomma, non è una cosa che c'è scritta di certo nella descrizione del gioco, e non è una cosa che rovini il gioco. Vi ho preso un esempio veramente limite prima con Assassin's Creed Valhalla, però è giusto appunto per farvi capire quali possono essere un po' i limiti dello streaming, perché bene o male, quello che guardate è un video al pari di quello che vedreste in pratica su YouTube. Se conoscete YouTube saprete bene di che cosa parlo. Detto questo, poi, devo sottolineare anche che non tutti i giochi, secondo me, sono altrettanto ben ottimizzati per Stadia. Doom Eternal, che è appunto uno sparatutto tra i più frenetici che siano mai stati fatti, me lo sono goduto dall'inizio alla fine senza praticamente mai un rallentamento. Altri giochi, che magari sono anche meno frenetici, senz'altro, di Doom, invece qualche scattino in più l'hanno esibito e mi rallaccio appunto al discorso di prima sul fatto che comunque questo è un software che gira su un certo hardware e come tale può non essere sempre perfetto per quell'hardware lì. Sarebbe bello poter provare i giochi prima di comprarli, ma del resto nemmeno Steam vi permette di fare sempre una cosa del genere e non penso che una cosa simile arriverà su Stadia. Ci sono alcuni giochi completamente gratuiti come Destiny 2, ma la cosa bene o male finisce lì. Cyberpunk 2077 è un altro di quei giochi che sembrano veramente cuciti su misura per Stadia al netto dei glitch e debug del gioco gira davvero bene e vi permette di godere fin da subito di uno dei titoli più attesi del decennio senza preoccuparvi assolutamente dell'hardware per farlo girare che come sappiamo non è affatto indifferente non è banale giocare a Cyberpunk 2077 così bene come ci si gioca su Stadia su altre piattaforme avete bisogno di un PC molto potente o di una console next gen. Qui è tutto facile, non ci sono patch da applicare, non ci sono aggiornamenti da fare, è subito pronto all'avvio. La stessa cosa vale ovviamente anche per gli altri giochi, alcuni, per esempio un Red Dead Redemption 2 al momento del lancio era assai meno ottimizzato di quanto non fosse un Doom, sperimentavo molto più stesso dei problemi tecnici ma non nel senso dei glitch del gioco, parlo proprio di scatti, di rallentamenti, di legnosità del titolo stesso rispetto a tanti altri ed era successo lo stesso anche su PC il lancio di Red Dead Redemption 2 su PC non fu affatto liscio, anzi, fu pieno di piccoli problemi ed esattamente come ci possono essere dei problemi su una certa piattaforma così ce ne possono essere con alcuni giochi anche su Stadia i giochi non sono tutti uguali, questo vale ovunque, vale anche su Stadia. Quindi, insomma sì, nel complesso è vero che Stadia ha ancora qualche piccola mancanza, prima vi dicevo del rinnovamento dell'interfaccia su desktop mentre invece su smartphone è sostanzialmente rimasta invariata, su Android TV non è mai arrivata, una cosa per me assolutamente inspiegabile perché appunto Google ancora non l'abbia rilasciato per la sua piattaforma per Smart TV, però vi devo assicurare una cosa, avendo seguito Stadia costantemente lungo l'ultimo anno ho visto come Google abbia avuto un impegno costante nei confronti dei suoi servizi dei cloud gaming, un impegno che non vedevo da tempo da parte di Google, sono arrivate tante funzioni, il crowd choice, la condivisione in famiglia, la messaggistica, i live direttamente su YouTube, insomma è migliorato molto Stadia dal punto di vista sia tecnico che dei titoli disponibili, quindi chiunque pensasse che sarà il classico progetto di Google destinato al cimitero, ecco mi sento assolutamente di rassicurarlo perché per ora non c'è nulla che faccia pensare che Stadia sia pronto per un prematuro pensionamento, anzi Google ha proprio fatto degli impegni di lungo periodo, si parla di almeno 3-4 anni di giochi sviluppati dalla sua software house, quindi state tranquilli che Stadia è il futuro quantomeno per quanto riguarda Google del cloud gaming. Credo insomma ormai di avervi detto un po' tutto quello che c'è da sapere su Stadia, spero di avervi un po' rassicurato su certi aspetti del servizio e su come in generale Stadia abbia sia ancora degli ampi margini di miglioramento sotto certi fronti ma comunque i giochi ci sono e sono godibilissimi nella maggior parte dei casi con picchi di eccellenza secondo me per esempio in un cyberpunk del quale probabilmente avete già visto un video che ho realizzato su YouTube dei gameplay se non l'aveste visto ve lo lascio qua in alto in ogni caso ricordatevi di iscrivervi dal canale attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno di questi contenuti cyberpunk che ha dimostrato secondo me tutta la potenza di Stadia ovvero mentre per giocarci su PC o su console c'è chi ha dovuto aggiornare l'hardware c'è chi ha comprato la console next gen chi si ritrova con quelle delle generazioni precedenti o con dei PC più vecchi che magari hanno problemi su Stadia è stato istantaneo acquistato clicchi giochi e non ti devi preoccupare appunto di nulla questo vale in generale non ti devi preoccupare di patch di driver di aggiornamenti niente non hai perdite di tempo che ti portino a non giocare qui clicchi play sei in gioco e hai uno dei titoli più attesi del decennio con un'ottima grafica in full hd a 60 fps senza aver speso una lira di hardware in più un euro ormai tranne appunto il costo del gioco stesso secondo me è stata una grande vittoria il lancio di cyberpunk 2077 per Stadia ed è proprio il segno di come il servizio di google sia migliorato con questo ultimo anno e di come diciamo le previsioni per il futuro siano a parer mio più che rose bisogna soltanto che google migliori un pochino l'aspetto della comunicazione che ancora un po' gli manca gli è sempre mancato se devo essere sincero un po' in tutti i suoi progetti l'importante è che voi sappiate che Stadia c'è è gratuita in fondo dovete soltanto acquistare i giochi se foste fan svegatati di cyberpunk e non aveste modo di giocarvi io vi consiglio vivamente di valutare l'opzione Stadia che comunque rimane validissima per tutti gli altri titoli per questa prova di Stadia dopo un anno mi fermo qua vi ricordo come sempre di fare un like su questo video se vi fosse piaciuto o un dislike ma fatemi sapere come mai nei commenti da parte mia come sempre un saluto e alla prossima